Salve a tutti quanti, ci ritroviamo in un nuovo episodio di Minecraft Hardcore Eravamo rintanati in quella buca a causa dell'incestivo lag Perché avevo già iniziato a registrare Quindi ci siamo dovuti rintanare in quella buca a causa del lag E con cento dei passmostri che ci volevano uccidere Ok, eravamo al punto della nostra esplorazione Oddio, oddio io non ho un'arma Ma perché sono così stupido, perché? Rintaniamoci in un buco Che bello Adesso mi uccisano Oh mio dio, oh mio dio, oh mio dio Aiuto, aiuto Oddio adesso mi ammazzano Lo so, ne sono certo Ok, ora Lumos Poi Una working bench O tavolo da lavoro O banco da lavoro Chiamatelo come volete, insomma È uguale È uguale Poi Buttiamo qua Una scipadina Poi Cos'altro buttiamo? Cordicella Sì Cos'altro butto? Cosa ho di inutile? Assista robaccia Via Ok, ora possiamo risalire Ok, adesso Allora La pala Sendo che l'arco non ci serve a niente Però la tiro fuori Via Muori dannato Muori Muori Vieni, vieni qua Che ti spacco la faccia Ti spacco la faccia io Non ti ci provare mai più Mai più Ok Va bene Fantastico Oddio Oddio Sempaticissimo Scheletro Mi spiace ma Lei non mi può uccidere No Ok Lei neanche Signor Enderman E Tanto meno lei Signor zombie Messer zombie Se vuole Proprio Oh Una bella pozza di lava Vuoi vedere che è quella che ho Tipo trovato Cinque minuti fa No Non è questa No si è questa Oddio ti prego dimmi che non No non è vero Ho fatto il giro Però bene Sì noi siamo partiti a qua Se non ve ne siete resi conto Io ho tre rani che tentano di squartarmi Ammazzarmi E aprirmi in due Prendomi Un Caldo covo per le loro uova Ok no Non ci riusciranno E Desolato non sono sul meno quest'oggi Anzi questa sera Essendo che siamo di sera Fantastico Torniamo indietro A sti punti Ok scheletro Non mi toccare Perché se no Ok l'hai voluto tu L'hai voluto tu Mi spiace Io non ti volevo fare del male Ma Ma l'hai voluto tu Guarda Non volevo io Io sono una persona pacifica Giuro che se Uli mi attacca L'uccido anch'esso Uccido anch'esso Bene ha capito Chi era il più forte E si è arreso Ok Lei non mi raggiunge Quindi posso evitarla Cibo Sì ne abbiamo a sufficienza Signori Siamo equipaggiati bene Come diciamo Quindi Prima che finiamo il cibo Abbiamo tempo Abbiamo molto tempo Beh molto no Però un po' di tempo Ce l'abbiamo Ora Che interessante Spiaggia Di pietra Molto bella Venite pure a visitarla Signori Un risorto In pietra Vicino a una giungla Dai che abbiamo Un tempio Un tempio della giungla Magari Non so che cosa è impossibile Oddio Ma perché Dito agli angoli Ma perché Essere infimi Che non siete altro Ok Allora È un deserto Sì forse Sì è un deserto Sì 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 è un deserto Sì lo vedo Lo vedo È un deserto Se non lo vedevo Ero cieco Beh non è proprio un deserto È un È un rotondo Oddio no Cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Ok Sono un po' Un folle proprio Mi sono buttato Senza neanche guardare giù Proprio Sì C'è l'acqua Di sotto E poi Cristallius È spaccato le gambe Cadendo Da un'altura O No Com'è la morte Che dice qui Dice È morto Per un'altezza Troppo alta Ok Ora Dobbiamo proseguire Molto Non allora allora penso che ho ancora una piccola parte del deserto che poi a noi non ci interessa sta parte che poi a noi non ci interessa da 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 ok secondo me ci stiamo allontanando di brutto da casa ma di brutto eh ho ancora lo screenshot e lo screenshot con con le coordinate oh guarda che belle montagne signori guarda che belle queste bellissime montagne eleganti molto molto alte vabbè si ok è passato un giorno è passato una notte un giorno quindi già 17 minuti credo spero penso credo spero penso sì ok quindi oh speriamo un po' se qui c'è qualcosa oh 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 che bello che bello io trovo soltanto villaggi piramidi mai proprio mai mi giuro che se ne trovo una e poi mi rifà la stessa storia di prima con i creeper i scheletri mi arrabbio tremendamente ma tremendamente tuturuturuturutururuturututuruturutu Direi che per questo episodio magari Chiudiamo qui per non esagerare troppo Sì Ok Perché non so effettivamente a quanto siamo arrivati Ma quindi io vi saluto Ma non preoccupatevi ci sentiamo fra poco Sì, sì Approssimativamente Buongiorno Massimo 2 Con i nostri episodi di Minecraft Hardcore Arrivederci